...dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 25304 di Trenord, proveniente da Milano Porta Garibaldi, in diretto a Trenord. 7, G, 4, 3, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 25304 di Trenord, proveniente da Milano Porta Garibaldi, in diretto a Trenord, in ore 9.27, è il treno ordinario 30. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Grazie. Grazie a tutti.